. 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 Tedia consente a contenere un po' l'esuperanza dei compagni ad un patto, i due in caso di problemi dovranno sempre rivolgersi a lui, invece di chiamare la polizia, la coppia accenta, ma la situazione non migliora. Una notte.